Non le date retta! La nostra sbaglia! È un'unica ridicola! È un'unica impazzita! Oh sì, è una scioccarezza piena di fantasie! Ma Anna, ho l'ordine di provarla a tutte le ragazze! Vieni, bambini! Oh no! No, 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 no! Questo è il tuo figlio! Che cosa dirà? Che cosa farà? Forse io posso aiutarti! No, no, nessuno potrebbe aiutarti! No, no, nessuno potrebbe aiutarti! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni!